signori buongiorno e bentornati sul canale del mastercai io sono il mastercai il vostro ospite su questo canale quasi ultimo appuntamento con la grande ruota abbiamo visto i piani della legge abbiamo visto il piano del caos e del bene questa settimana tocca all'ultimo dei piani del mezzo allineamento cioè il piano del caos e del male ovvero l'abisso l'abisso è una voragine nera in cui tutto viene risucchiato e corrotto questo è il luogo nel multiverso dove c'è equilibrio tra le forze del caos e le forze del male qui ogni forma di male possibile esiste si manifesta in qualche modo tutto è risolto con la violenza il più forte il più furbo dominano su tutti gli altri e la stessa struttura dei piani ribolle in una maniera particolare per cui normalmente all'abisso ci si riferisce come a gli infiniti strati dell'abisso perché sarebbe impossibile calcolare quanti esattamente siano le schegge e i frattali planari in cui l'abisso continua a frammentarsi a riplasmarsi in realtà ogni strato è stato dato un numero ma a differenza degli altri tre piani che abbiamo visto il numero non dipende dalla loro posizione rispetto agli altri piani ma semplicemente dall'ordine in cui quel piano è stato identificato ammettendo che il piano sia stato identificato e che il piano non sia cambiato da quando sia stato identificato nel caso finiste mai nell'abisso ricordatevi che ci sono tre pericoli fondamentali gli abitanti tenderanno a divorarvi uccidervi dopo avervi torturati per divertimento il clima passa dal estremamente inospitale al decisamente letale e tutto il cibo è velenoso e tutta l'acqua è tossica ma al di là di questo non è così male stare nell'abisso almeno questo è quello che dicono i demoni che lo abitano i demoni però in quanto creature intrinseche del caos e del male non hanno una vera e propria società e trovano piacere in divertimenti più crudi rispetto a quelli che abbiamo visto per i diavoli qui non esiste alcuna società castale intrighi di palazzo o cosa del genere qui i demoni si ammazzano tra di loro e ammazzano chiunque l'altro fin tanto che i più forti non emergono e reclamano interi strati del piano come il loro dominio personale da riplasmare in base alle loro preferenze che sono tutte inequivocabilmente orribili e letali per i mortali in quanto pregno di caos primordiale l'abisso non ha alcuna caratteristica che accomuna i suoi strati se non la malvagità intrinseca alcuni strati sono deserti totalmente vuoti e freddi in cui non morti giravogano senza senso altri piani sono giungle incredibilmente affollate dove piove costantemente sangue che fa impazzire chiunque ne venga bagnato alcuni strati sono enormi megalopoli dedicate esclusivamente al commercio di droghe e sostanze che corrompono l'anima e altri invece sono abitati da popoli virtualmente primitivi che non fanno altro che uccidersi a vicenda per vedere chi è il più forte un discorso analogo può essere fatto per il clima ci sono strati dove non si è mai vista la pioggia e strati dove piove costantemente qualunque tipo di clima possa esistere esisterà da qualche parte nell'abisso e esisterà in una versione particolarmente sgradevole diciamo che nell'abisso l'unica cosa che non esiste è la noia non avrebbe senso stare a elencare gli strati di un piano che ha letteralmente infiniti strati anche se c'è da dire che gli strati dell'abisso vengono considerati infiniti semplicemente perché non c'è un reale modo per contarli i piani continuano a mutare sono comunque emanazione dell'essenza del caos questo come ho detto il piano del caos e del male alcuni piani si fondono altri si dividono alcuni piani cambiano il loro aspetto repentinamente perché cambiato l'arci demone che li governa quindi sarebbe estremamente difficile farne una lista comprensiva vediamo però di elencare un po di quelli più famosi o forse sarebbe meglio dire famigerati e partiamo da quello che è convenzionalmente considerato il primo strato più che altro perché qui è dove la maggior parte dei portali planari stabili sfocia all'interno dell'abisso il primo strato dell'abisso la pazunia è in realtà un reame duplice il vero signore dello strato l'arcidemone pazuzu in realtà reclama il controllo dei cieli dello strato e li pattuglia costantemente seguito alla sua sterminata corte di demoni volanti in realtà disinteressandosi di quello che avviene a livello del terreno ma gli avventurieri probabilmente faranno molta più esperienza con il pavimento del piano che è appunto la pianura dei portali infiniti che è una terra devastata arida e costantemente interrotta da profondi crepaci giganteschi createri e montagne a guzze che si alzano dal nulla e costellata da miriadi di gigantesche fortezze di ferro e ottone che sono i luoghi da dove i vari signori dei demoni e i generali della guerra sanguinosa dirigono le proprie armate e radunano i propri eserciti o si rinchiudono protetti ai loro servitori quando viaggiano in forma astrale su altri piani per corrompere i mortali la pianura dei portali infiniti è attraversata in tutta la sua infinita lunghezza dal fiume Stige che poi da qui cola anche in altri strati e ci sono innumerevoli porti lungo il suo corso dove le armate demoniache si imbarcano per andare a combattere su altri piani la guerra sanguinosa gli strati 65 e 66 sono fusi tra loro e si raggomitano a formare quella che è chiamata la fossa delle ragnatele demoniache che è il reame di l'olt la regina ragno praticamente unico ma diciamo sovrano del pantheon degli elfi oscuri questo piano doppio è composto letteralmente da una serie infinita di ragnatele che si dipanano da quattro ragnatele centrali che si richiudono ad anello su loro stesse formando fondamentalmente una sfera di dimensioni infinite lungo queste nervature principali si aprono un'enorme quantità di portali ognuno da su una grande metropoli dei draw in qualche punto o dei piani esterni o principalmente su qualche strato del piano materiale in cui i draw sono particolarmente potenti o in cui l'olt ha intenzione di renderli particolarmente potenti di per sé il piano non contiene nient'altro se non fosse che le ragnatele sono costantemente pattugliate dalle ioccole ed altri servitori demoniaci di l'olt e anche dallo stesso palazzo di l'olt che è una mostruosità a forma di ragno gigantesco che si muove continuamente sulla ragnatela in base alla volontà della dea quasi altrettanto famoso e sicuramente altrettanto temuto è abyss l'ottantottesimo strato le paludi salmastre o per dire più semplicemente il reame di demogorgon per rispecchiare la duplice natura del suo signore abissale abyss è diviso in due principali biomi diciamola così una giungla fittissima piena di piante velenose e predatori micidiali che fondamentalmente sbocca su un reef marittimo che ovviamente declina rapidamente in un abisso senza fondo costellato da piccole isolette all'interno della zona sommersa vivono una quantità infinita di ferocissimi predatori acquatici demoniaci e nella parte lagunosa che fa da separazione tra le due sorge la fortezza due torri di demogorgon che in realtà è formata da due torri principali entrambe le torri sono per metà sommerse qui ci sono le armate di demogorgon tra cui la sua elite formata da antipaladini marilyt che cavalcano recuperatori qui il principe demoniaco fa i suoi esperimenti perversi e qui passa il tempo a progettare schemi complessi contro i suoi nemici e principalmente anche contro se stesso uno dei reami più tipici probabilmente è quello convenzionalmente definito come il 422esimo le forre della morte qui il paesaggio è composto principalmente da una savana di erba gialla malata e le cui spighe sono affilate come rasoi e da sporadiche macchie di giungle giallastre piene di malattie e insetti predatori questo è il reame di yenogyu il dio degli gnol da qua lui guida le sue armate di gnol demoniaci a cacciare demoni inferiori nelle sue savane di rasoi e da qua lui governa il suo popolo prescelto dalla cima di un trono fatto di ossa che si dice sia alto quanto una montagna e spostandosi sulla sua fortezza privata che fondamentalmente è una città montata su ruote spinta da centinaia di migliaia di schiavi che fanno una fatica bestiale per portarla in giro per il divertimento di yenogyu e i suoi servitori demoniaci ecco probabilmente questo è uno dei luoghi più tipici e caratteristici del folklore dell'abisso mettiamola così l'abisso è probabilmente il piano che ha subito più variazioni tra un'edizione e l'altra anche anche solo i numeri dei rispettivi piani sono cambiati che effettivamente è molto in tema con la natura dell'abisso però diciamo ha reso abbastanza difficile reperire le informazioni per fare questo video devo essere sincero e molto probabilmente di tutto quello che ho detto ci sarà metà di voi che l'ha sentito in un altro modo e metà di voi non l'aveva mai sentito affatto ma ha sentito roba totalmente diversa a quanto pare la natura caotica dell'abisso si estende anche i manuali stessi comunque per questo video è tutto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche se avete domande dubbi o perplessità scrivetevi un commento qui sotto io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video ciao